All'ospedale di Corleone è successa una cosa strana. Giovanna, mi sono rotto le palle delle tue chiacchiere. Voglio i fatti. Hai scritto qualcosa? Appunti. Ma qua dentro c'è una bomba. Adesso mi racconti tutto. L'ospedale, il primario che ha operato il ragazzino, quelli che poi ti cacciano via, eppure la fidanzata del sindacalista. Ci facciamo un box su tre colonne, prima pagina, con l'intervista. No, no, non è un'intervista. Lei mi ha solo raccontato quella cosa sul pastore. Che però è l'unico testimone oculare. E tu questa come la chiami? Intervista. Sì, ma io non la posso citare, gliel'ho promesso. No, tu prima fai il giornalista e poi mantieni le promesse. Io non la cito. E poi a che serve? Se cade un albero è un fatto. Se quest'albero cadendo blocca tutto il traffico di Palermo, è una notizia. E va in cronaca. Se bloccata in mezzo al traffico ci resta una donna incinta e partorisce sui sedili della macchina, è una storia. E la gente si interessa alle storie. Tu vuoi che le persone si interessino a questo povero sindacalista scomparso o vuoi che non gliene freghi niente a nessuno? Grazie. Grazie.